benvenuti al primo video relativo al metodo friedrich metodo che si utilizza o meglio il metodo più utilizzato nel mondo dello speedcubing per quanto riguarda appunto le speed solve è il metodo che utilizzo io io lo risolvo in circa 27 28 secondi sto lievemente sub 30 di recente ci sarebbe da fare un bel discorso nel senso che il metodo friedrich è un lo considero quasi un percorso di vita nel senso che non non è un metodo come il metodo astrati che si apprende in poco tempo a livello di sequenze che sono più o meno fisse non c'è tantissimo ragionamento da fare anche se buona parte anche nel metodo astrati è intuitivo comunque ci sono tanti schemi fissi per cui diciamo che il cervello rimane un pochino in standby mentre il metodo friedrich c'è da ragionare tanto e soprattutto c'è da piano piano ampliare il proprio parco di conoscenze per quanto riguarda i vari casi le varie situazioni soprattutto come magari prevenire certe situazioni complesse ad esempio nella fase o l l cioè quella in cui l'ultimo strato viene orientato ci sono delle strategie per evitare gli o l l più complessi da riconoscere insomma cose di questo tipo per cui ho deciso di non fare una guida completa di friedrich che forse non sarei neanche in grado di fare ad alti livelli ma di analizzare solamente alcune fasi sulle quali ho un'esperienza media e trattare ora trattare come prima cosa le f2l cioè i primi due strati prima di tutto la fase per i principianti quindi per chi proprio inizia oggi ad avvicinarsi al friedrich e poi in seconda battuta farò un video intermedio dove tratterò quelle fasi delle f2l quelle quei casi delle f2l un pochino più elaborati della base per chi appunto sta iniziando ad accorciare i tempi a scendere magari sotto il minuto sotto i 50 secondi altra cosa direi magari parliamo del metodo friedrich in generale per chiunque non sia preparato per chi si sta avvicinando il metodo friedrich è un metodo che prevede la risoluzione in quattro fasi del cubo di rubik la prima fase è quella della croce bisogna realizzare una croce su una delle facce in genere si inizia sulla faccia bianca è la più utilizzata per l'inizio però col tempo bisogna abituarsi a iniziare con la croce più conveniente poi c'è da vedere un po' tutti i discorsi sul più conveniente poi si risolvono contemporaneamente i primi due strati in una fase che si chiama f2l che è quella che andiamo ad analizzare nel prossimo video infine si conclude l'ultimo strato con due fasi chiamate oll e pll orientation last layer cioè l'orientamento di tutto l'ultimo strato per cui si portano mettendo in conto che la faccia gialla sia la faccia dell'ultimo strato si portano su tutti gli stickers gialli ed infine pll permutation last layer cioè la permutazione dei pezzi dell'ultimo strato proprio che con un algoritmo si chiude l'ultimo strato spostando scambiando i vari pezzi che sono da scambiare dopo averli orientati questo è il metodo friedrich ora vi lascio ai video ne produrrò diversi i prossimi video saranno le f2l per principianti le f2l per intermedi principianti sono quelli che insomma con il metodo astratti impiegano circa un minuto e un quarto un minuto e che adesso iniziano a passare al friedrich magari quando i tempi inizieranno a calare sotto il minuto verso i 50 secondi diventerà utile le f2l intermedio con qualche caso più particolare che si può risolvere molto rapidamente detto ciò buona visione